Anno, domini, secondo millennium 2023. Grazie ai poteri conferitini dalla predigiosa acqua bollente sul Furea, io, Re Sgaglientò e Sua Maestà, la Regina, dichiaro ufficialmente aperto il Carnevale degli Sgaglientò 2023. Ad Amigelle, da Ami, Misseri, Scudieri e per il popolo plebeo, dichiaro aperto il giorno del buon umore. Da questo momento l'allegria e la felicità invadano i vostri cuori. Auguro a tutti voi un sincero benvenuto ad Acquiterne. Oggi, più che mai, cerchiamo di vivere il nostro tempo nel migliore dei modi. Non pensiamo al passato e nemmeno al futuro. Tutto corre troppo in fretta. Viviamo il nostro presente e godiamo del tempo insieme ai nostri cari, quel tempo prezioso che non torna più indietro. Non smettete di inseguire i vostri sogni. Abbiate fede e costanza. Agite per il bene comune. Questo mondo ne ha realmente bisogno. Investite sul futuro. Per voi stessi. Per tutti noi. Marta. Marta Beca. Marta. Marta. Quotant. 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 уда. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.